Bentornati a un nuovo appuntamento con i quiz delle magliette di calcio in collaborazione con il sito www.calcio2022hit.com Rimanete con noi perché ci saranno tantissime promozioni anche per voi! A iniziare dalla prima con il codice CRICRI potete avere il 10% di sconto sugli acquisti di tutte le vostre magliette ovviamente sul sito www.calcio2022hit.com link in descrizione dove trovate anche tutte le nuove promozioni valide fino al 15 febbraio in occasione del capodanno cinese e andiamo con la prima domanda mi raccomando rispondete anche voi nei commenti ma prima lasciate like! CRICRI sei pronto a rispondere? Hai 8 secondi per ogni risposta! Gli dà anche gli occhi! Mi metto le mani! Chi è stato nominato calciatore dell'anno 2018-2019 nella squadra Manchester City? Sterling! Bernardo Silva, Laporte o Ederson? Via col tempo! C'è l'imparazione della scelta perché c'è Ederson e Sterling... Ederson! dice Ederson? No! Risposta sbagliata! Era Sterling! No! Era Bernardo Silva, giocatore del Manchester City che sicuramente avrà un giubbottino come il mio guardate che bello! Manchester City giubbottino che ho preso sul sito www.calcio2022hit.com che in questi giorni ha una promozione fantastica! Per ogni maglietta che comprate ne avrete una in regalo! E per ottenere la maglietta in regalo ora vi spiego come si fa! Ascoltate bene! Dopo aver inserito tutti i tuoi prodotti nel carrello clicca sul bottone alla cassa inserisci qui il codice CRI CRI per ottenere lo sconto del 10% e premi invio Importante! In questa sezione dove c'è scritto osservazioni scrivi il modello e la taglia delle maglie di calcio gratuite a cui hai diritto secondo la promozione in corso ad esempio Maglia Napoli taglia M Maglia Nikan Taglia S Maglia Ida Taglia M A questo punto conferma ordine riceverai tutti i tuoi prodotti più le maglie gratuite La prossima domanda riguarda la Juve perché ho la maglia o la felpa della Juve ho i calcettoni della Juve sono della Juve e i pantaloni della Juve così che mio papà ha preso sul sito www.calcio2022it.com Perfetto CRI! E andiamo con la domanda sulla Juventus In quale anno la Juventus è retrocessa in serie B? 2006-2007? 2002-2003? 1999-2000? Oppure 2004-2005? Via col tempo! Tempo scaduto! 2006-2007? Sì! Bravissimo Cri! Allora attenzione perché per l'acquisto delle vostre magliette, delle vostre tute di calcio e giubbotti sportivi c'è un'ottima promozione ancora più conveniente di quella di prima per ordini maggiori di 129 euro due magliette in omaggio leggete in descrizione il regolamento per ricevere le maglie gratis e andiamo avanti con il nostro quiz è la volta del Barcellona ecco una bellissima maglietta del Barcellona e andiamo con la domanda CRI in quale anno è stato fondato il club del Barcellona? 1897, 1898, 1899 oppure 1900? Via col tempo! 1900... no, 1800... aspetta Tempo scaduto! 1897? no! ho risposta sbagliata la risposta esatta era 1899 prima di continuare lasciate un bel pollicione il like come lo chiamate su 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 mani su 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 così su su qual è la prossima squadra per il quiz CRI? prossima maglietta? l'Inter! maglietta dell'Inter per ragazzini interisti dai interisti giusto ok chi è il giocatore dell'Inter che ha segnato il primo gol nella stagione 2020-2021? Lukaku Barella Lautaro Martinez oppure Hakimi via col tempo questa è la so è facile Lautaro Martinez si esatto Martinez l'anno scorso è stato il primo goleador nell'Inter abbiamo ancora l'ultima domanda rimanete lì scrivete le vostre risposte nei commenti fateci sapere se le avete indovinate tutte ok? o quante ne avete indovinato allora io sotto questo bel giubbotto ho una maglietta di calcio della nostra nazionale sapete che ci sono le qualificazioni per i mondiali del Qatar quest'anno e ci speriamo che arrivi anche l'Italia a giocare ma andiamo con la domanda sulla nostra nazionale italiana chi fu il capocannoniere nel mondiale del 1982 vinto ovviamente dall'Italia? Rummenigge Paolo Rossi Zico oppure Maradona via col tempo allora Maradona e si dell'Italia era del Napoli era forte però barava quindi secondo me Paolo Rossi Paolo Rossi risposta esatta bravissimo Cri hai risposto esattamente a tre domande su cinque quindi hai passato il turno ciao a tutti ragazzi si aspettate per per questo per questa vittoria vi faccio un trucco di magia con questa carta non posso far così perché sono trasparente anzi no con questa no vabbè è l'unica carta che ho questa qui è una normale carta io ora metto due dita qui una dita qui e pronti per la magia oppla voglio dire adesso direte che qua è vero è qua però tra cinque secondi non è più qua uno due tre quattro cinque e non è neanche qua sparito magia e mi raccomando correte sul sito www.calcio2022it.com per prendere le vostre magliette preferite maglia del napoli maglia del lit questa maglia l'ho presa su calcio2022it.com stessa cosa anch'io questa maglia l'ho pagata a 26 euro un prezzo ragionevole il mio ho perso più ragionevole perché l'ho pagata a 29 euro guardate l'acqua per bella guardate il mio 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 portato